Fossati, Matarrese, Ferraresi, ci siamo? Terzoni. Il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 2 e, in particolare, il vicepresidente Manciulli. Prego. Il parere contrario su tutti. Grazie, il Governo. Il parere contrario. Grazie, passiamo ai voti. Votiamo l'articolo 2. La votazione è aperta. Massa. Palese. Duranti. Greco. Greco, D'Agostino è ancora onorevole palese e non riesce a votare. Provi, onorevole. Benissimo. Altri che non riescono a votare? La votazione è chiusa. Presenti 398, votanti 317, astenuti 81, maggioranza 159. Le Marazziti si accomodi al suo posto. Gentilmente, favorevoli 300.